A fine gennaio 2021, l'associazione Cocker's Angel Rescue Italia mi ha affidato la cura di Trudy. Trudy arriva da me, un cane fortemente deprivato, per i primi giorni di convivenza era quasi impossibile anche avvicinarsi. Applico una leggera pressione dolcissima, poi passo avanti e tolgo il tutto. Sempre qui in taglio, avvicinarsi all'essere umano, lasciò che sia una scelta sua poterlo fare, quindi non forzo, forse magari un po' d'aiuto, quindi una leggera tensione, però appena che la viene verso se mi tolgo la tensione. Adesso alziamo un po' l'asticella, nel senso che i cani paurosi, i cani fobrici, per sbloccarsi, per iniziare a credere anche di più in loro stessi, per credere anche di più nel conduttore, in chi li porta, hanno bisogno di confrontarsi con degli ostacoli. Quindi si inizia con degli ostacoli molto facili, molto semplici. Qui ho messo a terra un paio di barriere, quindi solo un ostacolo che lei deve superare. Se lo tocca potrebbe appare rumore, però è una cosa molto semplice, molto light. Perché? Perché anche le cose molto semplici per loro sono molto complicate. Un cane che ha una fobia o una deprivazione sensoriale, quello che per noi è scontato, per loro è una montagna da scalare. Grazie a tutti!